Viva! Se siete pronti vedete che c'è un tavolino, non è la tante... Io cucciolo una mappa... Viva! Quindi fuori consiglieri, fuori Tino Cetta, rimangono gli atleti... Dovremo essere pronti... Producco, un applauso agli atleti! Eh sì! Quattro chiudi suona! Chi passa il tocchetto suona, chi taglia, ok? Quindi il tempo viene preso così... Sì! Non ti vedete? Alessandro sei pronta? Tiara? Fabio? 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 Dico pronti e poi vieni! Sì! Pronti? Via! Andiamo! Uno tiene, l'altro taglia! Torno! Andiamo! Abombrecast saluto! Grazie! eh qua ci vuole la velocità mamma mia come taglia quello del lanzaletto è un palestrato ritmo incredibile oh quello del bel è veloce è velocissimo quello del bel è l'alzaletto un po' in difficoltà è l'alzaletto un po' in difficoltà oh il bel è riuscito a tagliare un altro pezzo oh mamma mia ma quello del bel amica ha un ritmo incredibile ma com'è rapido è rapidissimo oh 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 è caduto ma che succede? Ha vinto il taron! Ha vinto il taron! Stanno esultando! E San Cosmo, per completare l'opera! Esulto lì in fondo! Esulto quelli del taron lì in fondo! Stanno contando! La Z5! Questo è il taglio del tubolare! Grazie! 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 Ha preso il tubo No, le mette lì Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info ами Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 240, secondo il taron 245, quindi il San Cosma 265. E adesso le pignatte. Sì. 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 E poi il capo. Molto bene. Dopo le pignatte, eccola, già pronte. Veloce a stare la foto, che poi diventa più la maglia di cuore. Ah, la foto. Stiamo? Voglio vedere, voglio vedere. Taron! Eh, quanti sono? Un esercito! Bravo! Bravo, Marzarella, che oltre a essere una petita, ci dà anche una mano, come state? Ah, è una norma. Sì. A lontano. Dopo le pignate, ok.